oggi su canale 5 il programma amici 24 ha introdotto un nuovo compito per gli allievi assegnato da alessandra celentano questa novità ha scatenato polemiche tra ballerini e professori in particolare tra emmanuel lo e debora lettieri che hanno criticato il modo in cui la celentano gestisce le lezioni nonostante la possibilità di rifiutare il compito tutti gli allievi hanno deciso di partecipare tranne chiara per motivi fisici emmanuel ha espresso il suo disappunto per il comportamento di alessio e sienna che hanno accettato il compito senza consultarlo la tensione tra i professori è palpabile con emmanuel che accusa alessandra di non coinvolgere i colleghi nelle decisioni la situazione si complica ulteriormente quando i ballerini iniziano a discutere tra di loro generando confusione la scorsa settimana alessandra aveva già suscitato polemiche con la valutazione degli allievi e ora la situazione si ripete emmanuel si scaglia contro alessandra mentre alcuni allievi decidono di non eseguire il compito alla fine la prova di creatività si conclude con una classifica che riflette le opinioni degli insegnanti teodora che ha accettato il compito riceve elogi da alessia e daniele la tensione tra professori e allievi rende ogni episodio di amici 24 sempre più avvincente e ricco